e ancora buongiorno buon giovedì 24 settembre ai telespettatori della C ritorniamo dunque a parlare dei principali fatti del giorno in primo piano stamattina sui giornali lo scandalo che ha riguardato la volkswagen ieri le dimissioni della d e poi la visita del papa negli stati uniti è stato accolto da obama e ha detto io qui come figlio di emigrati ancora parleremo di emergenza profughi con l'impegno di attivare entro novembre gli hot spot per quanto riguarda invece le cronache regionali parleremo del della soluzione dell'ex sindaco di isola capo rizzuto carolina girasole e poi del maxi sequestro ieri della guardia di finanza di catanzaro di 25 milioni di euro la cosca sia pro copio tripodi questi altri principali fatti riportati sui giornali ma partiamo dal quotidiano la repubblica in primo piano lo scandalo volkswagen la truffa travolge l'ad di l'allarme nell'unione europea lascia winterkorn non a colpe serve un nuovo inizio indagini in tutti i paesi berlino si difende noi all'oscuro ancora il papa da obama io figlio di migranti l'attacco ai vescovi basta pedofilia la sanità con l'annunciato sciopero dei medici il libro nero dei test inutili sprecato un esame su quattro e ancora la battaglia infinita del senato 82 milioni di emendamenti presentati da calderoli lira di grasso dalla prima pagina del fatto quotidiano ancora la volkswagen in primo piano l'italia come volkswagen ipm maxi imbroglio sui filtri diesel pignatone dice salute ambiente sapevano da sette anni lettera ai ministri galletti del rio lorenzine sui sistemi antiparticolato le indagini confermano rischi per la salute e autorizzazioni anomale ci guadagnano pirelli e fiat dunque le riforme ancora in primo piano senato il lodo è una truffa renzi ha fregato la sinistra il giurista pellegrino spiega l'ultimo bidone dalla prima pagina del quotidiano del sud il caso che riguarda l'ex sindaco di isola caporizzuto carolina girasole ora basta con la politica queste le prime affermazioni dopo la soluzione l'ex sindaco si sfoga dopo la soluzione per il voto di scambio è andata bene ho trovato bravi avvocati e bravi giudici in italia va peggio mi pare anomalo che l'accusa annunci il ricorso senza aspettare le motivazioni da cassano allo ionio dopo 44 anni torna nel museo l'annunciazione di negroni l'opera risalente al 1552 sarà consegnata stasera durante una cerimonia sempre dalla prima pagina del quotidiano del sud la sanità budget per le cliniche nuovo scontro scura paolini il commissario dice criteri pronti da luglio l'aiop dice invece sostiene che scura dice cose non vere fa strafalcioni dalla regione concorso cancellato dopo 12 anni e poi della mezzia terma e la cronaca caso d'attilo test del dna sui familiari dunque potrebbe trattarsi proprio di questo giovane scomparso molti anni fa i resti ritrovati pochi giorni fa dopo una segnazione alla polizia e poi si parla di di trasporti di taglio basso ma questo lo vedete il titolo che riguarda l'aeroporto di crotone in particolare vola il segretario no record di passeggeri per il sant'anna ma in tv de micheli dice che va chiuso in italia nessuno scalo ha avuto un incremento migliore il suo limite è vicino a la mezzia terme e adesso ci spostiamo sulla prima pagina del garantista ancora in primo piano la l'assoluzione di carolina girasole un complotto contro di me non so di certo davo fastidio così durante la sua lunga intervista riportata stamattina sul quotidiano il garantista sempre in primo piano si parla dell'inchiesta rimborsopoli de gaetano e ancora un dominus della politica rimanga ai domiciliari le durissime motivazioni dei giudici del riesame nei confronti dell'ex assessore regionale sempre dalla prima pagina si parla del ponte sullo stretto il ministero il ponte sullo stretto non si fa dunque smentito al fano che aveva detto il contrario la guerra sulla sanità scura sbotta sui fondi ai privati e l'aiop lo attacca questi principali dunque argomenti riportati in primo piano ma ritorniamo sui quotidiani nazionali andiamo a sfogliare le pagine interne andiamo ad approfondire qualche argomento ripartiamo dalla repubblica in particolare dallo scandalo che ha travolto ma prima dello scandalo che ha travolto la volkswagen parliamo della visita del papa negli stati uniti e vengo da figlio di migranti di ha detto il pontefice alla casa bianca papa francesco esorta lo sviluppo sostenibile cita martin luther king ai vescovi dice mai più pedofilia e poi lo scandalo volkswagen winter corn lascia la d del gruppo tedesco serve un nuovo inizio il titolo recupera il 5 per cento per la successione in paul mueller inchieste penali negli usa ed in europa e sempre riguardo questa notizia questa questo scandalo si parla dei conti analisti preoccupati per la tenuta finanziaria del colosso tedesco tante voci di costo ancora non quantificabili ma assai rilevanti che fanno impallidire i 6,5 miliardi accantonati dopo lo scoppio dello scandalo multe rimborsi e titoli bruciati un buco nero per walsburg così dunque sulla repubblica altri altri argomenti in particolare si parla delle riforme intesa del partito democratico tre mosse da calderoli 82 milioni di nuovi emendamenti ma il presidente grasso non ci sta li ritiri o li dichiaro tutti inammissibili e i dem minacciano l'abolizione del senato sempre dalle pagine interne del del della repubblica il vertice che riguarda l'emergenza profughi più aiuti ai rifugiati otto spot in italia e grecia da novembre renzi dice stiamo andando nella direzione giusta sulle quote tre dei paesi ribelli dell'est si allineano e ancora la polemica che riguarda i medici tagli agli esami la rivolta dei medici pronti al scioperare contro il decreto che ha stilato una lista di 208 prescrizioni a rischio sprechi lorenzin dice nessuna caccia ai camici bianchi ma ora basta testi inutili i radiologi rispondono il problema esiste e poi in basso questa foto notizia che ha commosso il web bimba terrorizzata dell'intervento il cardio chirurgo la tranquillizza e così stamattina sulla repubblica adesso ci trasferiamo sulle pagine interne del fatto quotidiano andiamo ad approfondire dunque qualche altro argomento e partiamo proprio dalla notizia che riguarda la procura di roma beffa gigantesca sui diesel italiani dunque riguarda questa notizia lo scandalo volkswagen pignatone scrive ai ministri galletti del rio lorenzin sui filtri antiparticolato le indagini confermano pericoli per la salute e autorizzazioni anomale sempre sul stesso argomento la volkswagen lascia a piedi la d dei record il consiglio di sorveglianza del gruppo volta le spalle a winter corn che si dimette il sindacato lui non sapeva nulla e ancora altri argomenti sempre sul fatto quotidiano senato la ditta tratta poltrone il premier chiude l'accordo con l'asse bersani errani miglia vacca all'angolo i giovani forza italia perde pezzi calderoli 80 milioni di emendamenti grasso misure straordinarie un altri 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 articoli sempre sul fatto quotidiano riguardano la protesta annunciata dai medici esami inutili pagano i malati medici in rivolta dall'attacca al colesterolo molti vincoli sindacati della sanità pronti allo sciopero e poi c'è qualche numero 208 le diagnosi condizionate ci sono anche allergie dermatiti e risonanze così riporta stamattina il fatto quotidiano ma prima di andare avanti e di sfogliare le pagine interne del quotidiano del sud e del garantista ci fermiamo diamo spazio alla rubrica il santo del giorno a tra poco a milano santanatalo è rintenuto primo vescovo di questa città alcune reliquie di san nataloni consistenti probabilmente solo pezze di lino trovatesi a contatto con il suo corpo furono portate nella cappella milanese intitolata concilia sanctorum probabilmente nel quinto secolo a lui è stata dedicata una strada di milano ed esiste una sua statua a carate e brianze città di provincia dalle pagine interne del quotidiano del sud un articolo che riguarda isola capo rizzuto marinella tra le più belle di italia questo il titolo a tutta pagina premio nazionale per l'unica località balneare calabrese scelta dal web una delle 13 spiagge del cuore premiate da lega ambiente è stato assegnato dunque la spiaggia marinella capo di capo rizzuto a crotone il premio nazionale targato 2015 la più bella sei tu dedicata alle spiagge italiane dunque nei dettagli vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione il mare come fonte di bellezza impegno sociale buone pratiche è stato il tema dell'evento regionale di lega ambiente calabria che si è tenuto nella sala convegni della biblioteca comunale dei nobili in villa margherita catanzaro l'iniziativa che ha visto protagoniste 15 località balneari calabresi è stato dedicato al maestro vittorio de sena vittorio de seta è stato uno dei premiati uno elementi importanti un regista importante una pietra miliare all'interno della cinematografia italiana del neonarismo che era diciamo poco 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 riconosciuto in maniera calabrese perché lui è siciliano di nascita però di fatto calabrese di adozione un convegno che nasce al termine di tanti progetti culminato con la consegna del premio nazionale la più bella sei tu la spiaggia di marinella di caporizzuto la spiaggia che è stata scelta da dai amici dei network di facebook per quando è stata votata in quanto bellissima spiaggia l'iniziativa è stato anche un momento per silare un resoconto della campagna ricicla estate realizzata con il conai e volta alla sensibilizzazione della raccolta differenziata e riciclo tra i premiati la casa editrice rubettino la fondazione umg di catanzaro il rimuseum di rende il gruppo musicale il parto delle nuvole pesanti dannelli oboà del ghana volontario nella comunità di riace e i take off e adesso siamo sulle pagine che riguardano la mezzia terme sempre dal quotidiano del sud donne impaurite dalla cosca il titolo a tutta pagina che riguarda l'operazione per sé o entrambe in videoconferenza confermano quanto emerso dalle indagini testimonianza della moglie del pentito torcasio e della sorella di notarianni e poi ancora siamo a crotone in primo piano l'inchiesta gettonopoli commissioni indaga la finanza certamente suddelega della corte dei conti chiesti al comune i verbali del 2014 sotto la lente 350 mila euro spesi per le sedute sospetto danno erariale e siamo a vivo valencia in primo piano l'emergenza idrica carenza idrica sfuriata del partito democratico da russo bordate all'amministrazione nessuna comunicazione né autobotti dice russo dal consigliere avanzate al sindaco costa anche delle proposte per uscire da questa emergenza idrica che a vivo valencia si protrae ormai da alcuni giorni da circa una settimana in particolare sempre da vivo valencia un'altra notizia riguarda il caso della possibile soppressione della prefettura di vivo valencia oggi interviene il segretario cittadino di sel francesco pacilè ennesimo scippo al vibonese dice commento al vetriolo del segretario cittadino francesco pacilè abbiamo una rappresentanza politica non degna di questo nome così dunque riporta l'articolo sul quotidiano del sud sempre dal vibonese la cronaca con l'ennesimo incidente mortale ieri a zaccanopoli ancora morti sulle strade vibonesi nove le persone che hanno perso la vita in nove mesi e ormai un'emergenza incidente stradale a zaccanopoli prova il decesso di un 45 anni ancora cronaca sorpresa rubare in casa dal proprietario è arrestato e sempre dal vibonese un ruba un furgone arrestato la presenza sospetta del 23enne notata dagli agenti vibonesi un giovane rumeno fermato dalla polizia stradale e andiamo avanti ancora in primo piano sempre l'emergenza un'altra emergenza che riguarda il vibonese è quella che riguarda i rifiuti integrata un'unità lavorativa siamo a filadelfia in servizio della società che si occupa della raccolta porta a porta in città svolgerà le sue mansioni negli impianti sportivi del comune andiamo avanti ci trasferiamo a tropea irma scugli una vita per gli altri una messa ufficiata dal vescovo luigi renzo che ne ha ricordato l'esempio l'indimenticata figura dell'oblata celebrata a 21 anni dalla morte siamo a cosenza in primo piano la sanità analisi solo negli ospedali i contenuti del decreto del commissario che depotenzia gli ambulatori territoriali resteranno solo i punti prelievo il materiale verrà analizzato nei nosocomi sempre dal Cosentino la banda del micetto davanti al GUP oggi gli interrogatori di garanzia dei presunti narcotrafficanti del centro storico ancora in bilico le posizioni di 12 persone ritenute contigue al gruppo dal Tirreno Cosentino ambulanti nell'occhio del ciclone poi Santa Maria del Cedro il Cedro protagonista di una giornata a Expo evento il prossimo 30 settembre dallo Ionio Cosentino in particolare da Trebisacce una catena umana con secchi d'acqua dunque vigili in ritardo ci pensano i cittadini questo il titolo che riguarda l'incendio scoppiato in pieno centro tanta la paura per le fiamme del calore una catena umana con secchi d'acqua evacuate alcune abitazioni per il fumo e questi dunque i principali argomenti riportati sul quotidiano del sud andiamo a Reggio Calabria la prefettura ha trattato l'argomento della sicurezza stradale giunge al tavolo del palazzo del governo con il prefetto San Martino si è parlato anche di ordine pubblico tavolo di confronto dunque con il comune e siamo ai trasporti aeroporto Falcomatassi a Grappa del Rio il sindaco urge un tavolo interistituzionale per il rilancio dello scalo affannosa corsa per salvare lo scalo della città metropolitana e siamo adesso allo sport come sempre in chiusura del nostro Tg Mattina partiamo dalla serie B in particolare dal crotone pazzo e divertente così il titolo a tutta pagina sul quotidiano del sud i rosso-blu giocano un calcio d'attacco sfrontato che entusiasma i tifosi bella vittoria contro il quotato Bari ma ora c'è da preparare la sfida di Vercelli ancora da Catanzaro Moi parla da leader il difensore centrale siamo un gruppo ce la metteremo tutta per rialzarci per la gara di Agrigento loro in casa vogliono vincere ma noi andremo lì agguerriti così riporta stamattina il quotidiano del sud un'ultima notizia riguarda la Vigor Lamezia rinviata l'udienza sul ricorso non sono scaduti i termini di costituzione della società controinteressate i biancoverdi dovrebbero giocare almeno altre due partite di campionato e siamo alla Vibonese fa le prove antifrattese nel match amichevole con gli allievi Parisi ha saltato l'allenamento di ieri per via dell'influenza questi dunque i vari argomenti sportivi che riguardano la nostra regione dalla prima pagina torniamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport la notizia, l'articolo riguarda l'Inter fuga al bacio e la quinta vittoria consecutiva contro il Verona decide Melo che va ad abbracciare la moglie i nerazzurri cinici rischiano ma allungano sulle altre Big sono a più tre sulla Viola Domenica San Siro lo scontro diretto ancora altri articoli Fiorentina fattore K Cuba e Kalinic in gol valgono il secondo posto il Sassuolo passa a Palermo con Flocari e terzo il Chievo con l'1-0 firmato da Castro aggancia il Lettorino la crisi della Juve che crolla meno 10 stadion tabù e fischi storico Frosinone la squadra di Allegri va in vantaggio con un tiro deviato di Zaza ma al 91esimo Blanchard di testa fa 1-1 e con questo è tutto io vi ringrazio come sempre per aver preferito la nostra informazione vi ricordo l'appuntamento delle 13.45 con la prima edizione del telegiornale della C noi invece ritorniamo domattina dalle 7 grazie ancora e buona giornata amici di la C una giornata di giovedì caratterizzata da fenomeni sul meridione d'Italia sono gli effetti di quell'area depressionaria che ha portato in maltempo da prima sul nord ovest e poi sulla fascia adriatica dell'Italia centrale e adesso sul meridione d'Italia è inutile dire che non siamo più in una condizione estiva gli anticicloni sono entrambi allontani dalla nostra penisola che si colora di giallo perché risente di correnti settentrionali che da nord est discendono dall'Europa centrale in direzione proprio dell'Italia e anche l'analisi a 1.500 metri d'altezza mostra abbastanza bene la situazione nel suo insieme con l'anticicloni delle Azorre che ormai non è più presente sulla parte sinistra dello schermo vediamo colorazioni che dall'arancione tenue diventano gialle e il sub tropicale che è ormai confinato sull'Egitto direi sul Mediterraneo orientale e invece la nostra penisola compare al centro dello schermo colorata di giallo di una tinta diciamo abbastanza viva questo perché? perché le temperature più sono fresche più la colorazione che le rappresenta tende dal rosso a passare all'arancione e al giallo quindi siamo in un contesto di temperature a 1.500 metri d'altezza comprese tra i 10 e i 15 gradi quindi al suolo considerate che su 1.000 metri d'altezza c'è un aumento di circa 10 gradi non supereremo i 23-24 gradi mediamente toccando i 25 forse sull'Italia meridionale è una situazione questa che tenderà a rimanere per tutta la settimana e che diciamo porterà in stabilità pomeridiana in particolare sul meridione d'Italia e sul settore adriatico il medio e il basso settore adriatico passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo dire che la giornata di giovedì vede assenza di fenomeni sul nord d'Italia vediamo ampie fasi soleggiate su Piemonte, Liguria e settore padano invece diciamo concentrarsi di fenomeni per lo più sul basso adriatico e sul meridione lo dicevo in un'assenza di fenomeni una giornata di assenza di fenomeni giovedì sul nord d'Italia una giornata con temperature gradevoli in un contesto che vedrà c'è da fasi da poco nuvoloso e passare a nuvoloso nel corso delle ore centrali della giornata lo dicevo l'instabilità si concentrerà per lo più sul medio e basso adriatico lasciando il settore tirrenico dell'Italia centrale in un contesto prevalentemente soleggiato al meridione invece abbiamo i fenomeni che hanno disturbato le giornate trascorse sul nord d'Italia adesso il vortice di bassa pressione porta i suoi effetti sul meridione d'Italia sarà una giornata di giovedì caratterizzata da fenomeni che dalla fascia tirrenica già dalla mattinata si manifesteranno intensificandosi con il trascorrere delle ore e tenderanno a traslare da ovest verso est interessando anche la costa orientale calabrese il cosentino, il crotonese, il catanzarese sulla fascia ionica sono fenomeni che dalla mattinata poi tenderanno a spostarsi da ovest verso est e daranno ancora i loro effetti nel corso della giornata seguente di venerdì in cui si manifesteranno nella fase pomeridiana delle precipitazioni come ricorda anche la grafica in particolare su aree interne entroterra e tutto il settore che guarda verso est diciamo quindi essere interessati da questa instabilità pomeridiana in particolare il settore orientale della nostra regione non varierà di molto la situazione nel corso del fine settimana che si prospetta con fasi solegiate al mattino e instabilità di tipo pomeridiano nel corso delle ore centrali della giornata direi che per oggi è tutto un saluto da un volontario per gli amici di La C Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie attraverso il pianeta